In A1 si segnalano due chilometri di coda tra Incisa Reggello e Firenze Sud a causa di un veicolo in avaria in direzione Firenze, code in uscita anche a Firenze Sud provenendo da Bologna a causa del traffico intenso, sempre a causa del traffico intenso rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli nelle direzioni Firenze. Sulla FIPILI code attratte a causa del traffico intenso in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze e tra Montelupo Fiorentino e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per quanto riguarda invece la città di Firenze si segnala che da oggi 25 giugno a giovedì 28 giugno per lavori sui binari restringimenti di carreggiata all'incrocio tra Via Allori e Via di Novoli per chi proviene da Viale Guidoni dalle 7 alle 18. Muoversi in Toscana Info è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!